Ciao a tutti ed eccoci con un'altra entusiasmante lezione di storia moderna. Oggi parleremo di quello che succede nel mondo, in Europa, a seguito del congresso di Vienna, della restaurazione, come viene vissuta, diciamo così, la restaurazione in Europa e oggi parleremo anche dell'America Latina, quali sono le conseguenze e quale sarà appunto l'esito di questo obiettivo del congresso di Vienna di riportare indietro le lancette della storia verso l'ansia regime e verso l'assolutismo. Il primo capitolo che affronteremo è l'indipendenza dell'America Latina. Allora, noi sappiamo che finora la storia dell'America Latina che abbiamo fatto è una storia sostanzialmente di colonizzazione da parte degli spagnoli e da parte dei portoghesi, quindi gran parte dell'America Latina è controllata dalla Spagna, il Brasile invece dal Portogallo. Queste potenze, Spagna e Portogallo, hanno osservato negli ultimi secoli una inevitabile fase di declino. E, oltretutto, questo declino è culminato con la conquista, ovviamente, quindi la caduta di Dei Regni e la conquista della Spagna e del Portogallo da parte delle truppe napoleoniche. D'altronde, due cose sono da mettersi, diciamo, da porsi come causa dei moti che hanno portato e della rivolta in America Latina, hanno portato l'indipendenza in America Latina. Le idee rivoluzionali, che comunque erano arrivate anche oltre continente, ma d'altronde non dobbiamo andare troppo lontano, già prima della rivoluzione francese in America abbiamo assistito alla rivoluzione americana, la guerra di indipendenza, che aveva naturalmente portato e diffuso ideali, addirittura repubblicani, di indipendenza, di divisione dei poteri, di suffraggio, eccetera, eccetera. Quindi ideali liberali e contrari all'assolutismo reggio. D'altronde, appunto, una monarchia che è sempre più indebolita e sempre meno capace di tenere a freno la volontà indipendentista dei paesi dell'America Latina. Ma dobbiamo anche fare un passo indietro. Che cosa c'è in America Latina? Non esistono delle nazioni. Abbiamo visto come il concetto e il sentimento di nazione fosse qualcosa di fortemente collegato all'esito del congresso di Vienna, anche in senso, appunto, di nazione come popolo, nazione come Stato, nazione come organismo indipendente, che si deve autodeterminare e anche, appunto, emanciparsi dal controllo, magari, di potenze straniere. Ecco, in questo caso, in America Latina, non esistono propriamente delle nazioni. La popolazione è meticcia, mischiata. Ci sono bianchi, neri, indios. Quindi, storicamente, prima dell'arrivo degli spagnoli, tranne gli aztechi, diciamo, in Messico, non c'è un'identificazione etnica tra popolazione e paese. Infatti, la dinamica che si verrà a creare in America Latina è simile a quella che abbiamo visto per l'indipendenza degli Stati Uniti. Che cosa succede? Succede che in un periodo, verso la fine del Settecento, l'autorità di questi viceregni, la Nuova Spagna, il Peru, Nuova Granada, Rio della Plata e Brasile, sono i cinque viceregni, infatti, diciamo, instaurati dai portoghesi, il Brasile e gli altri quattro dagli spagnoli, quindi sono viceregni con i viceregni, ecco, le potenze europee, Spagna e Portogallo, incrementano l'autorità e l'autoritarismo di questi viceregni, aumentano le tasse e, diciamo, incrementano un controllo nei commerci. È proprio una dinamica simile a quella che abbiamo visto succedere nelle famose 13 colonie degli Stati Uniti. I creoli sono i primi a opporsi ai peninsulari. Chi sono i creoli? I creoli sono i proprietari terrieri, minerali o commercianti che si erano stabiliti da tanto tempo ed erano, quindi, si può dire, ormai diventati nativi del Sud America. Ecco, erano, appunto, famiglie che ormai da secoli erano presenti nei coloni, quindi, un po' come simili ai coloni, anche se molto più antichi dei coloni americani del Nord America, erano, quindi, presenti nel Sud America da tanto tempo e, invece, si trovano a dover fronteggiare i cosiddetti peninsulari, che sono funzionari civili e militari che erano inviati dalla madrepatria proprio per comandare e soffocare eventuali movimenti indipendentisti nelle colonie. I creoli, quindi, si sostanzialmente coalizzano insieme agli indios per opporsi contro i peninsulari cosiddetti, cioè questi funzionari che erano sempre molto legati ed erano inviati proprio dalla madrepatria. Quindi, già alla fine del Settecento, tra il 79 e l'83, il mitico Tuba Camaru, in Perù, diciamo, guida delle rivolte che però sono represse dal sangue perché la monarchia ha ancora un saldo controllo del territorio. Però, poi, succede che la Spagna cade sotto Napoleone e, contemporaneamente, allenta la presa sulle colonie. Di conseguenza, in America Latina si creano delle giunte che dichiarano l'autonomia e applicano la famosa Costituzione di Cadice. La Costituzione di Cadice la sentiremo nominare molte volte e occorre tenerla presente. È una Costituzione che, sostanzialmente, è di matrice inglese che fu, diciamo, elaborata dagli inglesi a Cadice per la Spagna quando, appunto, nella fase di liberazione della Spagna dal dominio napoleonico e che intendeva essere una, diciamo, Costituzione liberale moderata che si poneva come modello alternativo alla Costituzione, invece, napoleonica. Nel 1814 sappiamo che, a seguito del congresso di Vienna, ritorna una politica assolutistica in Spagna, ok? Con Ferdinando VII. E quindi, questa è un po' la goccia che fa traboccare il vaso, iniziano in tutto il continente sudamericano delle rivolte contro gli spagnoli. In particolare, sono due personaggi da tenere presente, San Martín e Simon Bolivar. Allora, San Martín guida gli eserciti nel sud, quindi Argentina e Cile, che ottengono indipendenza nel 1816 e nel 1818. Quindi, vedete, pochi anni dopo ai fatti del congresso di Vienna. Simon Bolivar, invece, guiderà le rivolte del nord, la grande Colombia, che comprendeva Colombia, Venezuela, Ecuador, che diventeranno poi stati singoli e autonomi nel 1830, ma la grande Colombia, come stato indipendente dagli spagnoli, ottiene appunto la sua indipendenza nel 1819. Quindi, vedete come pochi anni, in tre o quattro anni, si riescono a liberare, con la guida di questi due libertadores, tutti i paesi dell'America Latina. Insieme, i due libertadores uniti libereranno il Perù nel 1924, quindi qualche anno in seguito, e la Bolivia, l'ultimo, che prenderà poi il nome Bolivia, proprio in onore di Simon Bolivar. Quindi la Bolivia, nel 1825, dedicherà il proprio nome del paese a questo condottiero. Invece, il Brasile ottiene indipendenza in maniera pacifica. Cioè, il re Giovanni VI, che era il re portoghese, si scappa, a seguito della conquista napoleonica del Portogallo, proprio in Brasile, e trasforma, che il Brasile era un viceregno, lo trasforma in regno. E quindi, il figlio Pietro, nel 1822, non fa altro che dichiarare l'indipendenza di questo regno dal regno portoghese, che, diciamo, era sostanzialmente già autonomo in tutto e per tutto. E nel 1821, infine, l'ultimo stato è il Messico, il generale Iturbide dichiara l'indipendenza e assume addirittura il titolo di imperatore, che però poi verrà rovesciato qualche anno dopo e diventerà una repubblica al Messico. Quello che è molto importante è la lettura a pagina 219, e poi vi dirò perché è importante. È la cosiddetta dottrina Morro. Che cosa succede? Succede che gli Stati Uniti assistono ai fatti della liberazione dell'indipendentismo dell'America Latina con molto interesse. E il presidente Morro emana un atto che sarà molto importante, anche non solo nella storia dell'Ottocento, ma avrà una rilevanza molto, diciamo, centrale anche nel Novecento, perché di fatto la dottrina Morro dirà due cose. Uno, l'America e gli americani. Cioè, da questo momento in poi, dopo la liberazione dagli spagnoli, dei portoghesi, quindi dalle potenze europee, tutto il continente americano è arbitro del suo destino, deciderà il suo destino. Quindi, in altri termini, gli Stati Uniti faranno da garante della pace e dell'indipendenza dell'America Latina. In altri termini, ancora, diventerà l'America Latina un territorio di influenza geopolitica forte da parte degli Stati Uniti d'America. Viceversa, le faccende europee saranno lasciate in mano agli europei e agli Stati Uniti, che finora non hanno avuto un ruolo, vediamo, nelle faccende, diciamo, europee e anche internazionali. Vengono ancora molto, se vogliamo, non conosciuti e sottovalutati in Europa. Ci si ricorda di questi coloni, questi coloni che hanno avuto l'indipendenza, che adesso erano alle prese con la grande espansione verso il West, il mito della frontiera, il mito del Far West, quindi la conquista di tutti i territori del Nord America per formare la federazione degli Stati Uniti d'America, sempre più allargati, sempre più tendenti a raggiungere l'altra costa dell'oceano. Questo sarà l'obiettivo degli americani, ma nel frattempo c'è una grandissima crescita economica e anche militare che viene probabilmente sottovalutata in termini di influenza che poi giocherà nelle faccende internazionali anche nel corso del Novecento. Fatto sta che adesso leggiamo questo, appunto, questa dottrina Morrault. Cosa dice Morrault? Morrault, che è presidente degli Stati Uniti, dell'epoca dice Giudico opportuno asserire come principio in cui sono implicati i diritti e gli interessi degli Stati Uniti che i continenti americani, data la libera e indipendente condizione da esse assunta e mantenuta, non dovranno da ora in poi più considerarsi oggetto di una futura colonizzazione da parte di qualsiasi potenza europea. I cittadini degli Stati Uniti nutrono i sentimenti più amichevoli a favore della felicità e della libertà dei loro amici al di là dell'Atlantico. Nelle guerre tra potenze europee su questioni di loro pertinenza noi non abbiamo preso alcuna parte né la nostra politica lo consentirebbe. Soltanto quando i nostri diritti sono lesi o seriamente minacciati noi ci risentiamo e ci prepariamo alla difesa. Necessariamente siamo più interessati agli sviluppi che si verificano in questo emisfero. È impossibile che le potenze alleate possano estendere il loro sistema politico ad alcuna parte dell'uno e dell'altro continente senza mettere in pericolo la nostra pace e felicità. Né alcuno può credere che i nostri fratelli meridionali i nostri fratelli meridionali se lasciati a se stessi lotterrebbero di nuove iniziative di proprie iniziative. È parimenti impossibile che noi possiamo assistere a una simile interferenza in qualsiasi forma con indifferenza. Quindi l'America e gli americani in particolare ciò che succede nell'America del Sud è di interesse, di pertinenza e di influenza degli Stati Uniti ma anche le cose che invece appartengono all'Europa, alle potenze europee vengono lasciate alla capacità organizzativa delle stesse. L'America interverrà nelle guerre europee solo se direttamente attaccata direttamente minacciata. Capite bene che questa dottrina sarà poi, avrà un ruolo fondamentale nello spiegare l'atteggiamento degli americani anche nei confronti delle future guerre mondiali. Ora vediamo velocissimamente e andiamo in Europa. Ecco, questo è quello che succede in America quindi questo scoppio dell'ondata rivoluzionaria che porta l'indipendenza di tutti i paesi del sud del continente americano. In Europa c'è chiaramente da un punto di vista anche ideale e intellettuale una serie di posizioni politiche di idee politiche che emergono a valle della restaurazione dopo il congresso di Vienna. Sono sostanzialmente divisibili in tre fasci. I reazionari che di fatto sono favorevoli alla restaurazione dell'ordine e alla monarchia assoluta. I conservatori che invece insieme all'altra fascia dei liberali, democratici e socialisti sono sostanzialmente a favore dell'idea di nazione e dell'indipendenza delle nazioni oppresse però hanno una differenza tra conservatori e liberali. I conservatori sono comunque a favore dell'idea di nazione ma per cambiamenti moderati rispetto alla tradizione quindi sono come dire si pongono per una via di mezzo e senz'altro non approvano le idee dei liberali che invece hanno come elementi di forza la libertà individuale quindi propugnano la libertà di tutti gli individui e la divisione dei poteri. A questo i democratici aggiungono anche il concetto di uguaglianza politica quindi libertà, divisione dei poteri ma anche uguaglianza politica cioè tutti devono essere uguali di fronte a per esempio al diritto di voto, al suffraggio e alla possibilità di fare carriera politica e di rivestire voi politici. I socialisti aggiungono a tutto questo anche il tema dell'uguaglianza economica quindi vedete come già all'inizio dell'Ottocento si vengono a fare degli schieramenti diciamo ideologici che poi sono interpretati da pensatori diversi e avranno conseguenze anche diverse in termini di movimenti politici di movimenti sociali e ci spiegano poi anche la divisione che c'era come dire nei rivoltosi degli anni venti che appunto queste divisioni anche ideologiche e di approccio porteranno poi al fallimento di molti di questi moti rivoluzionari. Il liberalismo c'è appunto da pensare il pensiero reazionario che in qualche modo porta con sé una critica all'illuminismo gli illuministi secondo i reazionari sostenevano la sovraietà popolare erano critici e nemici della religione eccetera eccetera e sono i responsabili secondo De Mestre per esempio del terrore della violenza sanguinaria di fine Settecento Von Haller un altro pensatore reazionario dice che bisogna recuperare la fede obbedire alla volontà indiscutibile del Papa rimettersi alla volontà dei sovrani e non mettere in discussione mai la restaurazione realizzata a Vienna perché opera della provvidenza viceversa il liberalismo l'idea politica sostanzialmente prevalente è che il contrario è che coloro che si oppongono al processo diciamo di restaurazione sono borghesi hanno come idea politica fondamentalmente il liberalismo che cosa si intende dire naturalmente gli interessi borghesi erano stati rafforzati attraverso la politica napoleonica la fine dei privilegi gli espropri dei beni ecclesiastici la fine della di fondo il favore verso gli investimenti del capitalismo sono questi i punti di forza della borghesia anche nella industria stiamo alle prese con l'inizio della rivoluzione industriale e nella manifattura questi interessi interessi appunto di modernizzazione di industrializzazione di apertura ai commerci e alla modernità erano messi in pericolo proprio da questa alleanza abbiamo visto tra trono e altare e dal ripristino dell'anzia regime cosa volevano i liberali creare monarchie costituzionali sarà una delle richieste costanti dei modi degli anni venti riconoscere diritti fondamentali dell'individuo come la libertà personale di fronte alla legge la libertà di parole d'opinione il diritto di proprietà il diritto all'impresa la separazione dei poteri legislativo esecutivo e giudiziario e la pluralità dei partiti cioè il fatto di avere una libertà di espressione politico e il riconoscimento ovviamente delle autonomie in questo senso nell'Europa di quegli anni c'è un emergere di società segrete la più importante probabilmente è la carboneria sono delle sette segrete che di fatto combattono il dispotismo l'alleanza trattora d'altare cercano di ripristinare ideali liberali e ideali costituzionali sono segrete perché sostanzialmente hanno una organizzazione improntata alla massima segretezza i membri non si riconoscono tra di loro sono spesso mascherati e camuffati sono gerarchicamente organizzati ogni sede autonoma dagli altri hanno tutta un'organizzazione dovuta al fatto di non essere scoperti di non poter essere in qualche modo sgominati arrestati e quindi perseguitati dalla polizia gli affiliati ottengono dei compiti e delle istruzioni poco alla volta tutto appunto ha gerarchie rigide ci sono codici che sono simboli noti soltanto ai leader la carboneria soprattutto poi sarà radicata in Spagna e in Italia e avrà come obiettivo l'unità e l'indipendenza della penisola nel nord Italia uscirà il conciliatore questa rivista di opinione pubblica moderata perché non c'era soltanto una critica nel mezzogiorno a quello che era successo con il ripristino dei Borbone ma anche naturalmente molto scontento in Piemonte nel Lombardo Veneto perché effettivamente l'Italia era stata molto penalizzata all'interno degli accordi tra le potenze divisa tra delle famiglie regnanti che appunto oltretutto stavano attuando una politica anche reazionaria e conservatrice quindi quali sono gli obiettivi fondamentali? beh insomma in qualche modo l'abbiamo già visto con il liberalismo costituzioni scritte che prevedessero creazioni di assemblee rappresentative quindi parlamenti l'istituzione di garanzia di libertà per evitare per tutti i cittadini per evitare di nuovo ritorno all'assolutismo e soprattutto l'espressione di una nazione composta da un popolo che eserce il diritto all'indipendenza quindi popolo uguale nazione la sovranità appartiene al popolo e il popolo si unisce e trova ragion d'essere all'interno della nazione quindi ogni stato deve essere espressione di una nazione che a sua volta è espressione del popolo e quindi non stati creati dall'alto non stati creati confini geografici creati per soddisfare le esigenze di equilibrio delle varie potenze europee come era stato invece nel congresso di Vienna l'epicentro della rivolta si ottiene in Spagna siamo in una situazione in cui il congresso di Vienna restaura un sovrano che però si trova a dover fare i conti con una con una costituzione come la costituzione di Cadice concessa nel 1812 che era di carattere liberale che era stata precedentemente instaurata proprio in seguito all'uscita dal dominio napoleonico ma quando verrà restaurato Ferdinando VII una delle prime cose che farà è proprio l'annullamento della costituzione di Cadice e quindi restituire al clero le proprietà sottratte ridare ai nobili i propri privilegi veramente cercare di riportare indietro le lancette della storia peraltro in quel periodo avverranno avvengono abbiamo visto i modi indipendentisti dell'America Latina il re di Spagna quindi Ferdinando che cosa fa? cerca di inviare subito per fermare questi modi indipendentisti l'esercito l'esercito si raduna a Cadice sempre a Cadice sembra che tutto succeda in questa città per partire verso l'America però proprio a Cadice 1819 il re cerca di inviare da Cadice l'esercito che però si ribella perché? perché nell'esercito noi lo sappiamo c'erano presenti ufficiali che comunque erano di idee liberali questo anche a seguito un po' delle novità e delle riforme in qualche modo impostate da Napoleone in questo caso si chiamano comuneros gli ufficiali della setta diciamo segreta di questa società segreta che di fatto si rivoltano contro gli ordini e non partono per l'America Latina ma al contrario formano un'aggiunta militare che a sua volta chiede di ripristinare la stessa costituzione del 1812 la costituzione di Cadice ok la rivolta si diffonde Ferdinando di fatto è costretto a ristabilire questa costituzione e addirittura fa svolgere delle elezioni però attenzione la divisione che c'è tra i liberali i progressisti i moderati i democratici esploderà proprio a seguito delle elezioni per cui il governo che esce dalle elezioni è un governo diviso lacerato e addirittura scoppiano contrasti tra le diciamo le forze le forze riformistiche diciamo tra progressisti e moderati e quindi la Spagna diventa nuovamente ingovernabile Ferdinando Abdica e le altre potenze europee in realtà decidono un intervento militare proprio per riportare al trono il re quindi nel 1823 viene repressa nel sangue questa rivolta e viene riportato al diciamo comando il re Ferdinando dei Borboni finiamo parlando della Grecia la Grecia è una realtà arretrata nell'ottocento tra i greci c'è la diffusione di idee di autodeterminazione dei popoli e di una diciamo in qualche modo di un sentimento favorevole ai greci che vedeva la Grecia come paese oppresso paese culla della civiltà occidentale patria della filosofia patria del teatro della democrazia ideale se vogliamo una Grecia ortodossa quindi cristiana che viene oppressa dall'invasore musulmano di origine diversa di religioni diverse quindi si diffonde nell'ottocento un'idea romantica favorevole all'indipendenza della Grecia d'altronde l'impero ottomano è molto debole e abbiamo visto nel corso di questi secoli è rimasto indietro rispetto allo sviluppo militare tecnologico sociale economico delle potenze europee nel 1814 è in Russia a Odessa che si forma la prima società segreta l'Eteria che ha il diretto obiettivo di cacciare gli ottomani dai Balcani il leader è Alessandro Ipsilanti che è un generale aiutante proprio dello zar Alessandro I e proprio a partire dal 21 scoppiano diverse rivolte per l'indipendenza che erano diciamo organizzate e spinte dall'Eteria gli ottomani reagiscono duramente ed è famoso anche per via del diciamo sia dell'impatto che ebbe ma poi abbiamo una testimonianza nel ritratto della Croix lo sterminio dell'isola di Chio dove furono massacrati i rivoltosi da parte degli ottomani ma i ribelli non demordono e liberano il peloponneso dagli ottomani e nel 1822 dichiarano l'indipendenza della Grecia a questo punto i greci però sono sotto scacco dagli ottomani chiedono aiuto alle potenze europee proprio per sostenere la causa indipendentista e ottengono però una diciamo risposta diversa la Russia molto favorevole all'intervento sia nei Balcani sia verso la Grecia per diciamo contrastare un po' un nemico naturale che aveva Oriente cioè l'impero ottomano l'Austria è molto più protente ed è contrario all'intervento militare ma a questo punto c'è una vera e propria guerra romantica che si diffonde in tutta Europa volontari che partono per la Grecia ad esempio Byron vedete Lord Byron un poeta famoso ma lo stesso Santorre di Santa Rosa partiranno arruolandosi come volontari per aiutare l'indipendenza dei greci proprio in virtù di questo sentimento filoellenico e contro il despotismo degli ottomani il despotismo degli islamici vista come una nazione despotica corrotta oppressiva anche politicamente e religiosamente ok questa è un'idea romantica dell'indipendenza della Grecia e del contrasto tra la Grecia cristiana oppressa da una invece potenza straniera di religione islamica Lord Byron morirà in Grecia è proprio perché contrarrà la malaria tuttavia nonostante questo appoggio popolare diciamo degli intellettuali dei volontari visto che ancora non c'è un vero e proprio sostegno e supporto delle potenze europee tra il 25 e il 27 sembra che gli indipendentisti debbano arrendersi però arriva invece l'aiuto da parte di Nicola I Nicola I in realtà vede anche un'occasione di espansione territoriale e quindi minaccia di entrare in guerra contro gli ottomani a questo punto è la Gran Bretagna che propone una mediazione e dice ok facciamo una specie di embargo mettiamo manteniamo la Grecia sotto gli ottomani però sostanzialmente commissariata da una flotta russa francese inglese che controlli che non vengano attuate repressioni uccisioni e atti contro la popolazione diciamo questa forma di commissariamento degenera perché gli ottomani reagiranno a questo accerchiamento della flotta deciso dagli inglesi e si arriverà a uno scontro finale dove prevarrà la forza dell'esercito soprattutto della flotta unita di russi francesi e soprattutto gli inglesi sempre più forti e invincibili sui mari e si arriva alla pace di Adrianopoli da ricordare nel 1832 viene messo a governare un viene creato un regno un regno della Grecia che di fatto poi non è neanche tutta la Grecia come oggi ce la ricordiamo soprattutto il Peloponneso viene comunque strappato un pezzo importante dell'impero ottomano appunto dalla mano degli ottomani e questo manifesta anche una crisi un indebolimento un declino dell'impero ottomano da tenere presente e anche da tenere presente che viene di fatto inventato un re laddove non c'era una vera dinastia viene scelto un nobile un principe della Baviera Ottone di Baviera che diventa nel 1832 re della Grecia quindi la Grecia ottiene la indipendenza così come l'America Latina questi sono forse i due risultati più significativi della diciamo dei modi del 20-21 quello che rimane da vedere però è che cosa succede in Italia a seguito dell'ondata rivoluzionaria di questi anni bene ciao a tutti ed eccoci qui con un'altra rapida lezione ma entusiasmante lezione di storia moderna ormai quasi storia contemporanea perché siamo alle prese con quello che succede in Europa nel 20-21 il periodo dei grandi moti di rivolta e di rivoluzione successivi al congresso di Vienna abbiamo visto che già nell'America Latina è scoppiata una importante rivolta che avrà successo nel senso che porterà nel giro di pochi anni l'indipendenza di gran parte dei paesi di tutti i paesi anzi dell'America Latina dalla Spagna e dal Brasile e dal Portogallo con la nascita del Brasile e anche abbiamo osservato la questione dell'indipendenza greca l'indipendenza greca dall'impero ottomano un altro fatto che poi è anche un fatto europeo vedrà la partecipazione sia diretta che indiretta di intellettuali una grande movimento di opinione pubblica la nascita di movimenti anche l'eteria ad esempio a favore dell'indipendenza della Grecia e ci rivela appunto la crisi crescente dell'impero ottomano la incapacità dell'impero ottomano di stare al passo con le grandi potenze occidentali ma questo sciame rivoluzionario queste rivolte che vanno contro lo ripetiamo all'ordine stabilito a Vienna all'ordine della restaurazione che viene messo in crisi appunto già pochi anni dopo da questi movimenti liberali dai carbonari dalle società segrete attecchisce in Spagna e abbiamo visto appunto però l'esito se vogliamo non determinante non positivo ai fini di una modernizzazione della Costituzione abbiamo visto che purtroppo il movimento per l'indipendenza della Spagna è stato poi diciamo schiacciato e represso con l'intervento anche delle potenze straniere ma adesso oggi ci occuperemo degli altri moti rivoluzionari ad esempio quello che succede in Italia sempre nel 20-21 parallelamente alla diciamo allo scoppio di questi moti in Spagna abbiamo visto in Grecia adesso vediamo in Italia in Italia cosa succede? Allora sostanzialmente occorre dire questo che il regno delle due Sicilie che era nato a seguito del congresso di Vienna mantiene un'organizzazione dell'esercito che quella napoleonica cioè Murat aveva sostanzialmente riformato sull'ottica appunto dell'ideale napoleonico di riforma dell'esercito l'esercito che si diciamo si occupava della difesa di tutto il regno delle due Sicilie con avvalendosi di giovani generali ufficiali delle idee liberali quindi ecco da pensare che gli ufficiali e l'esercito in quel periodo ancora aveva nelle sue schiere molti ufficiali liberali e quindi era questo un punto di innesco importante proprio perché sappiamo l'importanza dell'esercito come anche strumento di pressione nonché appunto vera forza a livello appunto di poter imporre anche una rivolta di poterla portare avanti perché appunto è armato e quindi appunto ci troviamo che quando la notizia della rivolta di Cadice si diffonde il primo posto a rivoltarsi e contro l'ordine stabilito attraverso due ufficiali carbonari che sono Morelli e Silvati è Nola quindi diciamo l'epicentro della rivolta è vicino Napoli l'obiettivo è quello sostanzialmente di richiedere una costituzione simile alla costituzione di Cadice quindi ripetiamolo l'esercito ha al suo interno giovani liberali ufficiali appunto che sono favorevoli a una riforma liberale e a una costituzione e quindi a seguito di questa notizia a Nola questa prima guarnigione si sostanzialmente rivolta contro i Borbone chiedendo la costituzione di Cadice i carbonari che appunto sappiamo che nel mezzogiorno d'Italia erano piuttosto radicati diverse società segrete carbonare si alleano a questa guarnigione e diffondono all'interno dell'esercito un sentimento di rivolta fu inviato il Guglielmo Pepe un generale dell'esercito da parte dei diciamo Borbone ma anch'esso si schierò dalla parte dei rivoltosi ok quindi l'esercito guidato da Guglielmo Pepe e che aveva appunto tra le sue fila questi carbonari alcuni pezzi dell'esercito di varie regioni del sud Italia va verso Napoli e costringe Ferdinando I a concedere la costituzione quindi all'inizio sembrerebbe aver avuto successo Ferdinando I concede una costituzione simile a costituzione di Cadice quindi una costituzione liberale moderata ma occorre dire anche che questa rivolta si estende anche in Sicilia perché perché in Sicilia ugualmente c'è una richiesta da parte degli ufficiali dell'esercito di ripristinare la costituzione liberale che già esisteva precedentemente e che invece Ferdinando diciamo concesse scusate che era stata concesse nel 1812 e che era stata poi abolita e il problema in più c'è anche da dire che in Sicilia erano nati dei moti anche di sentimento indipendentista quindi diversamente da Napoli non c'era soltanto la richiesta costituzionale ma anche l'indipendenza prima Palermo era una capitale adesso invece con l'unione di Palermo diciamo del regno di Napoli del regno di Sicilia che è diventato il regno delle due Sicilie ecco aristocratici borghesi diciamo di Palermo hanno perso centralità e quindi rivendicano una indipendenza il problema è proprio lì che c'è una grande differenza però e questo sarà un po' il punto di debolezza di tutte queste rivoluzioni e rivolte dell'inizio dell'Ottocento c'è una divisione interna tra un'ala radicale che sta più a Palermo e un'area invece più moderata Catania e Messina quindi sostanzialmente questo modo in Sicilia non riesce a imporsi rispetto all'esercito borbonico che riprende facilmente il controllo della situazione e a Napoli a seguito della concessione della Costituzione avvengono delle elezioni che devono essere a questo punto concesse da Ferdinando a seguito della Costituzione e portano al successo però una maggioranza che non è estremista o radicale ma al contrario è liberale moderata che questa diciamo vittoria porterà proprio alla sparizione e all'eliminazione politica proprio delle frange più estreme cioè i carbonari a questo punto parte a Lubiana un congresso dove le grandi potenze si riuniscono per cercare di capire come fare nei confronti di queste crescenti modi rivoltosi e rivoluzionari naturalmente Ferdinando va a Lubiana promettendo di ratificare la sua posizione costituzionale moderata al contrario si rimangono assolutamente le concessioni e chiede alla Santa Alleanza in quell'occasione di intervenire nel 1821 infatti intervengono gli austriaci e Ferdinando così ha un esercito potente esercito a suo favore nessuno è in grado purtroppo di resistere in quel momento all'esercito austriaco e quindi viene sconfitto l'esercito costituzionale che abbiamo visto liberale che si era unito contro i Borbone e quindi viene abrogata la Costituzione avviata una repressione e Morelli e Silvati sono giustiziati mentre il generale Pepe va in esilio quindi così finisce nel sangue la rivolta del 21 e viene quindi rimangiata la Costituzione diceva rimangiata nel senso rimangiate le promesse e restaurato sostanzialmente un assolutismo da parte dei Borboni in Piemonte contemporaneamente scoppiano altri moti in questo caso sono proprio i liberali Santorre di Santa Rosa da tenere presente Cesare Balbo ok che cosa vogliono fare vogliono spingere Carlo Alberto di Savoia ricordiamoci in Piemonte ci sono i Savoia che d'altronde sono l'unica casa italiana regnante in tutta l'Italia vogliono diciamo convincere Carlo Alberto di Savoia a fare in modo che lo zio che è il re Vittorio Emanuele conceda la Costituzione liberale e addirittura e questo è importante è molto importante ricordarlo non solo c'è una richiesta anch'essa costituzionale ma anche di muovere guerra all'Austria c'è anche una primissima richiesta e volontà indipendentista cioè Santorri di Santa Rosa e Cesare Balbo vogliono convincere sostanzialmente il nipote del re quindi Carlo Alberto che è il nipote del re Vittorio Emanuele I a muovere guerra all'Austria a concedere una Costituzione anche in questo caso e quindi fare sostanzialmente formare unire il Lombardo Veneto con il Piemonte e formare un regno dell'Italia settentrionale i liberali anch'essi in questo caso sono divisi sul modo di agire e su in che modo costringere Vittorio I aderire al suo progetto Carlo Alberto ha un d'altronde un approccio ondivago non appoggia più la cospirazione sembra voltare le spalle i rivoltosi ma comunque nel 1821 è importante questo fatto ad Alessandria per la prima volta viene issata sulla caserma di Alessandria sulla guarnigione di Alessandria c'è una rivolta e viene issata sulla caserma il tricolore anche in questo caso la prima richiesta è la costituzione spagnola stiamo parlando del marzo del 1821 a questo punto spaventato da questa rivolta Vittorio Emanuele abdica quindi Vittorio Emanuele lascia il trono e lascia il trono non al nipote Carlo Alberto ma al fratello Carlo Felice che però non è in Italia in quel momento o meglio non è a Torino e Carlo Alberto allora tiene nel frattempo la reggenza del trono e per placare gli animi concede la costituzione liberale e anche addirittura permette la formazione di un governo liberale quindi sembrerebbe che nonostante tutto non certamente l'indipendenza dall'Austria ma si sia ottenuta almeno una costituzione e un governo di carattere liberale naturalmente Carlo Felice che poi è il re ritorna e anche che esso sconfessa assolutamente l'iniziativa del nipote cioè come dire abolisce ciò che era stato fatto da Carlo Alberto in sua assenza e anche esso anche Carlo Felice chiede l'aiuto della Santa Alleanza vedete come la Santa Alleanza viene in qualche modo richiesta attivata in difesa dello status quo delle monarchie in pericolo ok in pericolo rispetto alla alla tenuta rispetto all'assolutismo rispetto anche addirittura a movimenti identitari libertari libertari nel senso che richiedono libertà e indipendenza dall'oppressore come nel Nord Italia come anche nella Sicilia Carlo Alberto a questo punto non appoggia le stesse riforme che lui stesso aveva promulgato ma al contrario fa un vottafaccia e a Novara si unisce alle truppe dello zio Carlo Felice e combatte contro lo stesso esercito costituzionale liberale che aveva appoggiato prima e che era guidato da Santorre di Santa Rosa e a Novara proprio ci sarà la sconfitta definitiva dei liberali nel 1821 sempre negli anni venti quando in Russia morì Alessandro I lo zar e ugualmente ci furono dei movimenti non approfondiamo eccessivamente diciamo gli eventi russi però ricordiamoci che nel 25 a Pietroburgo proprio durante il giuramento di questo nuovo imperatore di Nicola I rispetto appunto allo zar lo zar Alessandro I appunto c'è questa successione nel governo e nella guida della Russia alcune truppe che sono alcune di queste di carattere liberale e soprattutto la società del nord sono due società segrete di Russia la società del nord che è liberale costituzionale e la società del sud che invece è repubblicana comunque c'è una sollevazione e questa sollevazione visto che avvenne nel dicembre che si chiama Decabr in russo viene chiamata come sollevazione Decabrista anche questa è orientata a chiedere allo zar una costituzione liberale ma naturalmente anche in questo caso lo zar Nicola I adotta la forza arresto e capi della rivoluzione purtroppo erano divisi anch'essi tra idee più estreme e vedete come la debolezza di questi moti spesso sta proprio nell'indecisione e nel non equilibrio tra non unitarietà e non uniformità omogeneità di un disegno politico di queste istanze rivoluzionari e rivoltose spesso le fazioni sono diverse ci sono dei liberali che però sono contrari ai democratici radicali fatto sta che queste divisioni favoriscono il potere costituito e anche in questo caso lo zar ha gioco facile nello sgominare questa rivolta nell'esercito e anche a giustiziare i capi della rivolta alcuni e qui si inaugura un diciamo una prassi che poi vedremo anche nel novecento ritornare sono condannati ai lavori forzati in Siberia quindi i campi di lavoro forzati nella Siberia questo avviene nel 1826 quindi ancora per concludere in Russia niente di fatto rimane uno zarismo assoluto e i tentativi costituzionali vengono diciamo soffocati